Senti ragazzi, oggi giocheremo a Minecraft. Allora, aspettate un attimo che mi sposto e poi giochiamo. Allora, in questi nuovi giorni ho costruito una bella Big Vanilla. Oggi la provo. Oggi esploreremo la nostra Big Vanilla. E' super. Nel Nether, ecco, non ci andremo, ma nel prossimo video. Se lasciate un like. Ok, l'ho messo. Allora, andremo a fare. Allora, ci vuole un bel po', ma tranquilli. Ci vuole un po'. Intanto parliamo. Noi. Allora, l'ho costruito un po' di tempo fa. E quindi è un po' migliorata. Non è tanto grande, ma comunque è bellino. Ed ecco. Aspetta che si vede un po' per funzionare. E' fatto. Allora, ragazzi. E'... Allora. Sono comparsa in questo luogo. E... Ecco. Devo fare un attimo così. Ops. Per sbaglio. Per fatto. Ed ecco. Per prima cosa. Andiamo subito dalla mia big vanilla. Poi vi faccio vedere una cosa emozionante. Lasciate il like o poi non continuate. Ok, gente. Iscrivetevi al canale. Allora, ragazzi. Ecco la mia big vanilla. Ah, no, no, non ne ho già. Ok, ok. Pensavo di entrare nel portale. Vabbè. Allora. Adesso. Andremo. Dalla. Per prima cosa, nella mia casa. Ok, non ne uscire. Ok. Sono andato mi baggato, ma vabbè. Non ho venuto di questo. Anzi, no. Della piscina. No. No, non è la mia casa. Così dopo. La prima casa. La casa prima di tutto. Allora. Ho perso qualche spada. Non devo ricercarla. Vabbè. Un altro video. La cercherò. Guardate. Casa di Andrea Baby. Allora. Noi dovremmo. Ecco la mia casa. Abbiamo dato di seguito. Intanto c'è tutta questa roba. Qua c'è un po' di cibo. Un po' di... Aspetta un attimo. Questo aspetto di fuoco. No. Non era sparato proprio perso. Poi l'avrei trovata subito. Qua invece c'è una stanza davvero strana. Ecco. E... Devo chiedere la bocca. La stessa cosa. Vabbè. Va. La chiudo dopo. No. Non è. Non è. Aspetta un attimo che devo fare una cosa. Un attimo. Metto pausa. Poi arrivo. Ok ragazzi. Fini pausa. E stiamo continuando a scendere. In verità. Non ho messo pausa. Perché devo scendere. Qua è la mia base seguita. Così puoi scappare dentro un mob. E dopo sbucare dall'altra parte. Guarda che belle armature. Guardi. Poi. C'è tutto qua. Già è. Super. Tutta questa roba. E. Tutta questa roba. Questa roba. E. Qualcosa. Credo che l'avrei recuperato dai villager. Qua forse. Sì sì sì. Vedi che è a poco. Sì. Poco. Sì sì. Anche quello. Infatti sono state le ore del villaggio. Poi c'è un'altra uscita segreta. Io sono la vista. Vabbè. L'ho riferito. L'ho. Io sono la vista. Ma. La vecchia è proprio super segreta. La vecchia è proprio super segreta. Poi è bellissimo. C'è un'altra volta? Sì. Ok. Mi ho dimenticato. Oh è già notte. Scusa. Hai visto? Ok. Guarda dove si è sbucati. Ecco. E l'altra parte. Così dopo. E loro sono intrappolati. Potete. Su. Perché. Andate di stare tranquilli. Perché tanto loro. Sono intrappolati. Allora. Metto un altro. Eh. Metto. L'ore. E poi. Non è un altro. Metto l'ore. Così dopo possiamo. Così dopo voglio vedere. I. Phantom. Io voglio vedere. Ah. Gli altri. Questo è un uomo. Oh ma sono grandissimo. Forse è una famiglia. Vabbè. Comunque. Continuiamo. Allora. Qua c'è tutta la mia. Qua. Il totem. Tè. Tè. E. C'è qualcosa anche in discuta. Ah sì qualcosa. Il tridente. Guardate. E la spada. La torre. Guardate. Il mio tridente. E. Bebe. Che figuissimo. C'è il mio. Fiamma. Un. Infinito. Uno. Potenza. Cinque. Impatto. Due. È super. Ti. Cuoco. Poi c'è anche la spada. Guardate. Fiamma. Molto forte. Un cavolo è molto esistente. Ah. Capone. Leggermente. Sì. Un cavolo. Questa. Questa. Si fuoco. E muore. Vedi. Questo è bello. Ha fatto. Un cavolo. Perché. Di solito. Molto forte. Molto forte. Molto. Quando. Mami. Inse. Mi piace. Ti. Vedete. 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 Sì. Sì. Non mi è neanche fatiché. A prendere. Devo proprio prenderlo. E comunque. Passiamo alla casa bianca. Non ho. Non so. Mi ricordo. Non mi ricordo. Sera. È la seconda costruzione che ho fatto. Ma vabbè. Allora. Possiamo andare. Ecco. Allora. Allora. Qua dentro del sugar box. Sì. Non c'è niente. Qua c'è tutta la roba di prima. Perché. È. 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 La cassa. Della. Dicone. Questa. Così. Poi. Non ho messo niente. Vabbè. 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 Questa. Questa roba è bellissima. Io ho insisto le lanterne. È tutta bianca. È. È fatta. La tomata casa bianca. Non so come mi ha messo il numero. È il numero. 1. 5. 4. 4. 3. 2. 3. 3. Vedete. Comunque qua. Mi fa mangiare un po' l'ansia stranamente lì. Alleluia. Vabbè. Vabbè. Mi metto un po' l'ansia. Se voi se sentite uno strano. Non sai cosa sia. Quindi. Ti mette un po' l'ansia. Invece c'è la mia farma di carota. Che mi ha dimenticato. Alla allora. ma non posso farvi vedere tutto anzi pochi non troppo allora la farò vedere in un prossimo video però adesso qua ci sono tutti i neri la piscina oh mio dio per un pelo non mi sono fermato non mi sono fermato sono intrati l'avevo finita ieri piscina e la piscina è proprio qui che piscina si guardate che bella che bella che bella adesso si guardate è super bello guardate si si può notare tranquilli che tanto c'è il mostro non mi prende ah no no stavo facendo guardate va vai comunque caccia il mio sdraio e vai caccia il mio sdraio caccia il mio sdraio diventatissimo bui 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 mi ho bloccato un altro non lo so è una cosa c'è vabbè si ce l'ho fatta allora lì c'è l'acqua io sono morti un po' di pesce svegliato qualcosa però ci sono ancora eh si molti sono morti eh mi dispiace vabbè sono ancora in tanti mi si persi così tanti eh eh non pensavo che finissero così tanti eh non guardate non guardate mh non guardate cos'ho imparato non è coppa mia comunque ok ragazzi faccio vedere l'ultima cosa super poi basta però eh allora questo beh se non lasciate più di un mi spiace mi arrabbio perché questa sarà la cosa più bella del mondo ah non c'è più gokart allora devo prendere gokart dove sei eh dove sei si bambi un attimo vabbè passate tutto e andiamo sali e via guardate guardate che bello cosa succede poi è bellissima bellissima lo potete lasciare anche in descrizione se volete iscrivervi al canale oh siamo pagati un attimo ma adesso non non importa questo che guardate e è una cosa bellissima guarda aumentate un attimo è super bella è super bella oh 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 e vai sì i miei calcoli sono perfettamente giusti che è vero guardate che bella ho messo anche delle delle blocchi di notte non so prima vabbè così però è bellino ma però si parla con il vabbè è bellissimo comunque ci vediamo nel prossimo video è un attimo eh ci vediamo nel prossimo video e ciao ciao